La sezione search è posta in alto a destra del website www.icotea.it vi permette di cercare in modo semplice e veloce i percorsi formativi ai quali siete interessati cliccate sulla casella search, trovate scritto testo da cercare inserite la tematica e cliccate sulla lente di grandimento dopodiché visualizzate tutti i percorsi formativi legati alla ricerca da voi impostata grazie